Metto un king, dubito, Corsair, Razer, Microsoft, Apple fa cagare, Infinity Roleplay, Big Mac, Bangkok, hello, ok vengo, mi purisco la barba, sono Capitano America, Steve Rogers, 9812, cespuglio, piscio sul cespuglio, asciugo il cespuglio, mi do forno una pizza, a Rodaus, compro Rodaus, ordino la bissecca Rodaus, mi sveglio il cespuglio, faccio una corsa da Rozzano fino a Giambillino, mangio i cani, mangio i gatti, cani che mangiano gatti, gatti che mangiano cani, Bubu fece il cane, mia mia odisse il gatto e insieme salirono sull'arca, Salvini, Di Maio, Renzi, Silver 1, Silver 2, Silver 3, Silver 4, Nova 1, Nator, metto una smoke, Flash, tu entri in una macchina, tu sei la macchina, e tu resti, diamo il game su che per giocare a Minecraft, mi manca un po' Gigo, ciò mi devo dire, anche se calabrese, Capitano America mi sta proprio sul cazzo comunque, e ma si va a bannare una terza volta, Bridgson ancora non gioca senza hacks, lo riscuo al pavimento, hello, can I have one coke, Big Mac, cheeseburger, double quarter, one Big Mac, two double cheeseburger, chicken nuggets, sweet and sour sauce, ok vengo grazie, votate i brlusconi, comp, giochiamo a Valorant, Chico gioca a Fortnite, non ho voglia di fare un cazzo, veniamo liberi dal Bangra, lei mi si chiama con la Coca-Cola, ciao Fluffy, come stai, portinaia, panico Faisac, il gioco dei campioni, rotuno MT Family al tuomo, Dorya Moccia fa schifo, Zepo 89 è il miglior youtuber del mondo, Zepo 89 dovrebbe candidarsi in politica, Movimento 89 Stelle, Stilus Sam Democratico, Lega Kennet 89, Eccitato su CSGO, Calabricio, aeronautica, Microsoft Slack Simulator, lavoro da FNAF alla pizzeria di Freddy, controllo le tre camere di sicurezza, controllo che nessuno di robot impazzisca, si si va bene, si si, ho perso un braccio però comunque ha smesso di sanguinare dai, ci vediamo tra 5 minuti, facciamo comp, allora come è stato? È stato bravo, si si va bene, si si, REC 1, REC 2, REC 3 fa cagare, REC 4 pure, Venom, Resident Evil, 98, 12, 9812, 9812, 9812, ok vengo, Chris è ripresa, Chris è ripresa di nuovo, Chris è stato banato da discord, Chris è stato banato da casa sua, si si va bene, si si, vive sotto un ponte, anch'io vivere sotto un ponte, abbiamo pescato delle skin, compro le casse di CSGO, faccio betting di 300 euro poi perdo il pc, si si va bene, si si, compro un Samsung Galaxy S21, uno con la pennina, cioè non ho capito questa cosa che la gente dice io, io non ho tostato nessuno, non ho mai testato nessun server di Untarned o di GTA, non l'ho mai fatto, non l'ho mai fatto, gioco a bandico fa Isaac, gioco dei campioni, vado a lavorare da Rene Ferretti, gli occhi del cuore, la migliore serie tv italiana, il dottor cane lo voto, glauco, romano stupido, sono stato io a far crollare il tetto di Rene Ferretti lanciando una, una nade, gli occhi del cuore, gli occhi del cuore, Boris, Boris fa cagare molto meglio The Walking Dead o come si chiama, Supernatural.